Allora la parola adesso al professor Cesare De Michelis. Professor Cesare De Michelis, leggo brevissimamente il suo profilo. Docente di letteratura italiana moderna e contemporanea presso l'Università di Padova. Dirige dal 74 la rivista Studi Novecenteschi e presidente del Comitato Scientifico per l'edizione nazionale delle opere di Carlo Goldoni e membro di quello dell'edizione nazionale delle opere di Polito Nievo. Collabora con il Sole 24 Ore e il Corriere del Veneto. Nel 1965 appena laureato entra nel consiglio di amministrazione della casa editrice Marsilio della quale è tuttora presidente. Dal 65 al 74 diretto con Massimo Cacciari, tutti conoscono Massimo Cacciari, la rivista Angelus Novus. Nel 1980 diviene consigliere comunale e assessore del Comune di Venezia che è denominato vicepresidente del Biennale di Venezia. Cito un piccolo pensiero, un breve pensiero. Far libri, stamparli, leggerli, scriverli, raccoglierli, venderli, recensirli, nella mia vita mi sembra di non aver fatto altro. Come se un'ossessiva passione mi avesse travolto appena ragazzo. Ho accennato alla Marsilio Editore. La Marsilio Editore nasce il 23 febbraio del 1961. Il nome è un omaggio a Marsilio di Padova, il filosofo del XIV secolo, pensatore e giurista ghibellino. E nel 65 ne diventa socio per azioni, aprendo così le porte a nuovi soci. Non vi sto a raccontare la storia della Marsilio Editore. Vi dico soltanto che dal 65, l'anno scorso, in questi anni è stato celebrato il cinquantenario della fondazione, ha pubblicato alla Marsilio, questa grande casa editrice veneta, oltre 6.000 titoli, dei quali 2.500 ancora in listino, e propone ogni anno circa 150 novità. Eventualmente, brevemente, il professor De Micheli si illustrerà anche le tematiche, ma la Marsilio ha ampliato tantissimo, pensate, la sua produzione, contesti riguardanti l'arte, oltre che la letteratura, la saggistica, e così via. Al professor De Micheli, al quale rivolgo lo stesso invito che ho rivolto al professor Mirri, un compito difficilissimo, che forse, non lo so, contrasta un po' con quanto ha detto il professor Mirri, ma è una domanda. Anche perché a volte il moderno ci sembra assolutamente non bello, certe periferie cittadine, certi luoghi industriali di cui il Veneto è cosparso, ormai non c'è piccolo comune che non abbia zone industriali spessissimo bruttissime, degradate. Il bello e il moderno, una convivenza difficile. Il professor De Micheli, a lei la parola. Grazie, viene giusto dopo il discorso del professor Mirri, che vi ha reso evidente, la nozione classica della bellezza, quella che resta il punto di riferimento, però polemico, nel tempo della modernità. La caratteristica più tipica del pensiero moderno è infatti quella di rompere, interrompere letteralmente, la continuità della tradizione. Il probabilmente più radicale pensatore della modernità, alle sue origini, Cartesio, spiegava ai suoi lettori ed allievi che per scoprire il vero era necessario dimenticarsi tutto. Nel senso che la scienza del passato era solo un lungo percorso di errori, di sviste, di false interpretazioni che avevano condotto l'uomo a una interpretazione mitologica e irrazionale del mondo. La modernità, dunque, viene concepita come il tempo di una profonda, radicale, decisiva innovazione rispetto alla tradizione. E, lo abbiamo più volte sentito, il tempo del nuovo. Il percorso della modernità è ormai assai lungo, forse addirittura siamo da qualche decennio a pensare che stiamo vivendo in un'epoca di cui capiamo molto poco, ma che è stata in varie occasioni definita post-moderna, come se la modernità in qualche modo avesse compiuto l'arco della propria esistenza. E noi siamo qui a interrogarci anche perché, se c'è un momento in cui si ha l'illusione che la modernità abbia realizzato il proprio progetto, è proprio all'inizio del secolo scorso, all'inizio del Novecento, quando la nascita delle cosiddette avanguardie, appunto, costruisce l'idea di un'arte, di una cultura e di una politica, perché il concetto di avanguardia si applica all'arte, alla cultura e alla politica, che deve correre avanti, all'avanguardia appunto, perché il territorio del moderno realizzato e compiuto è vicino e quindi è ora di affrettare il passo per non perdere tempo e raggiungere il più sveltoamente possibile la meta. Naturalmente in tutto questo il risultato iniziale che si compie è che se il nuovo è più importante del bello, molti dei principi che il professor Mirri prima ha spiegato se ne vanno a gambe, all'aria. L'armonia come modello, Partenone, la Venere di Milo, Omero, Virgilio, tutta la grande tradizione della classicità rivissuta nella tradizione occidentale dall'umanesimo che ripropone i valori della classicità come vivi e tra l'altro li integra con grande spregiudicatezza con i valori della cristianità, questo modello armonico e compiuto dell'idea dell'uomo e della cultura viene messo radicalmente in crisi. Non è la continuità ciò che rende, e quindi non è l'armonia, non è il rifarsi a dei modelli, quindi in fondo se voi ci pensate bene, quando noi ci troviamo di fronte a qualcosa e vogliamo capire se è bella o brutta, la strada principale che nel corso dei secoli è stata perseguita è quella di avere chiaro qual è il modello e attraverso un confronto tra il modello ideale, lo diceva a proposito di Paolina Borghese, e la realtà che abbiamo di fronte, se la realtà assomiglia o è identica al modello, siamo di fronte alla bellezza. Lì dove la differenza è molto forte, è evidente che siamo di fronte alla imperfezione, a qualcosa che non è perfetto, compiuto. Ebbene questo principio estetico che è la tradizione classica fino quindi alla buona parte dell'Ottocento ha conservato intatta, viene messo in crisi dalla cultura della modernità che sostituisce al modello classico l'esigenza della novità, dell'innovazione. Come si fa a stabilire se un'innovazione è bella o no? Lo strumento non ha più un punto di riferimento concreto, il modello, non può che avere un punto di riferimento astratto. Infatti nel tempo della modernità nasce una filosofia, l'estetica, che cerca disperatamente di costruire una concettualizzazione di qualcosa che non ha concretezza ed esistenza. È quindi un modello ideale o vorrebbe da dire, per rispettare la logica della modernità, un modello ideologico. Il bello viene costruito all'interno di un ragionamento in funzione della costruzione del mondo nuovo. Quel mondo perfetto nella quale i conflitti non esisteranno più, la pace dominerà, la ricchezza sarà equamente distribuita, la solidarietà sarà la base delle relazioni tra le persone. Un modello che naturalmente nella filosofia politica produce utopia e nella filosofia estetica produce idealismo o idealità. Questo modello ideologico, tuttavia, per poter affermare la propria esistenza e il proprio primato sulla tradizione, è costretto, prima di dare concretezza ai suoi risultati, a distruggere la tradizione. Il compito fondamentale che le vanguardie si pongono è come fare a pezzi, come portare in rovina la tradizione. Questo è evidente in tutta l'arte del Novecento, che ha questo obiettivo in cui l'obiettivo di natura etico-politica, la distruzione di un modello che frena lo sviluppo e la crescita dei valori positivi dell'uomo, è il primo obiettivo. Così come in politica questo produce la rivoluzione politica e quindi l'affermazione violenta di un potere diverso rispetto a quello esistente, la rivoluzione, come voi ricorderete, comincia impiccando il re e anche la regina, impiccando, tagliando la testa per essere esatti. E da quel giorno in poi, i test ne sono cadute talmente tante nel corso dei secoli successivi, che la rivoluzione ha affermato il principio del diritto di vita e di morte sui potenti e anche sui propri stessi sodali, tant'è che anche Robespierre cadrà ghigliottinato lui pure. Allora questo tipo di violenza politica ha un'eguale violenza nella produzione artistica, di cui l'esempio più clamoroso sono i baffi che l'avanguardia disegna sul volto della Gioconda. ha spregio, ha offesa, ha umiliazione di un modello di bellezza così, come dire, antipatico, così aggressivamente anti-innovatore che non può che essere violato nella propria identità, nella propria essenza di prototipo di una umanità che noi non vogliamo riconoscere. Di conseguenza viene fuori, esce dalla dimensione del moderno, il fatto che le tradizionali gratificazioni dell'esperienza estetica venivano per lo più rifiutate e in questo senso si potrebbe dire che solo il bello, solo il brutto, scusate, diventava alla fine autenticamente espressione della innovazione. Se voi pensate, anche qui cito qualche esempio di quelli spero più noti, ma che in fondo Duchamp annuncia l'avvento dell'arte moderna mettendo al centro della sala museale un pisciatoio esattamente di produzione industriale, quindi senza neanche segnarlo con un gesto creativo. Il gesto creativo è semplicemente quello di prendere questo manufatto e invece di attaccarlo alla parete come normalmente si fa per assolvere i propri bisogni, lo si appoggia al centro della sala museale come monumento di una idea dell'arte che nasce appunto dalla volontà di negare tutto quello che l'arte classica aveva trasmesso e apportato. È lo stesso concetto che tende a negare la centralità dell'umanesimo in sede culturale. Questo percorso è un percorso che dura nel tempo e cito solo un altro episodio, anche perché è così clamoroso, che merita uguale attenzione, a 50 anni dopo Duchamp circa, alla Galleria Nazionale di Arte Moderne di Roma dopo essere stato esposto in alcune gallerie, sarà esposto al centro della sala del museo una scatola di latta chiusa come un'etichetta strepitosa, merda d'autore. Se si voleva la prova che è il brutto, cioè il repellente rifiuto della vita, che diventa invece l'emblema di un'ansia di innovazione e di trasformazione del mondo, la prova è inequivocabile. Il moderno non ha attenzione per il bello e non ha attenzione per il bello, viene da domandarsi, ma perché? Perché rifugge questa cosa? Rifugge questa cosa perché nel bello lui coglie l'assenza del vero. Il bello è mistificazione, proprio esattamente come nel caso di Paolina Borghese. C'è una donna e invece di rappresentarla com'è, la si idealizza fino a trasformarla nella Venere. Ma la importanza della verità è che Paolina Borghese, che è la donna che amiamo, non è Venere. È una signora che ha molte somiglianze forse con la Dea, ma che ha anche molte differenze da essa. Questa differenza fondamentale è l'affermazione che il vero viene prima del bello. E se il vero è offuscato dal bello che lo nasconde, è mistificato dal bello, è nascosto dal bello, sarà bene strappare questo velo, questo velo che ottunde la nostra intelligenza, che ci impedisce di guardare la realtà e stimolare la nostra curiosità ad andare oltre la soglia di una rappresentazione ideale del mondo verso la sua intrinseca realtà. Esattamente una cosa di questo genere accade nei confronti della nostra vita interiore, che è sempre lo spirito, è spirituale, è nobile, è solenne, è sublime. Ebbene dal Novecento in poi noi sappiamo che la vita interiore dell'uomo è una laida fogna dove si nascondono i più orrendi impulsi, omicidi, le più ignobili pulsioni erotiche, le più inconfessabili colpe morali. Questa trasformazione della vita interiore dal luogo sublime in cui risiede l'identità divina dell'uomo a una sorta di cloaca che ne nasconde l'orrore, ebbene è l'effetto di una trasformazione radicale dell'immagine del mondo che la modernità propone e porta fino alle estreme conseguenze. Rivoluzioni in politica, avanguardia nell'arte e psicanalisi nella vita spirituale. Sono solo tre esempi e potremmo continuare a raccontarne molti altri perché, d'altra parte, lo diceva il professore prima, l'immagine fondamentale della ricchezza nella modernità, della fonte del benessere, è la fabbrica. E la fabbrica, con tutto quello che vogliamo, è dominata nell'immaginario di tutti noi dal colore rosso del fuoco, quello del forno, e dal nero della fuligine, esattamente i colori dell'inferno dantesco. Niente paradisi su questa terra, se non dopo il completamento della modernità, il paradiso arriverà fatta la rivoluzione, quando l'avanguardia sarà arrivata finalmente alla meta, ma nella esperienza di noi modernizzatori, la pace non c'è, c'è solo l'inferno, il truppamento, l'inquietudine, l'ansia, l'alienazione, e mettetene più che volete. E' stato interrotto, prof? E' stato interrotto? No, come si può continuare? Ma va benissimo, sono arrivato al punto. Sì, oddio, oddio. E adesso come la mettiamo allora, prof? Ci lascia con questa ansia, quindi nella modernità non c'è speranza del bene. No, no, abbiamo una grande speranza, che ce ne possiamo liberare finalmente, che se siamo oltre la modernità, si potrà fare a meno di tutto questo. Bene, grazie ai parole di Micheli per questa lucidissima analizzazione.